Pace e bene a tutti, bentrovati. Oggi 23 dicembre ricordiamo San Giovanni da Cheti. Ascoltiamo. Giovanni Canzio nacque a Cheti il 23 giugno 1390. Intraprende gli studi con risultati subito brillanti. A 27 anni è docente di filosofia e dopo gli studi di teologia a 34 anni viene ordinato sacerdote, ma continua a insegnare per alcuni anni perché questa è la sua passione. Dopo una breve esperienza parrocchiale in provincia torna a stabilirsi nuovamente a Cracovia, risalendo sull'amata cattedra universitaria. All'amore per l'insegnamento e lo studio affianca l'impegno per i poveri. Con la sua paga di insegnante e con i suoi digiuni raggiunge quante più persone possibile. Giovanni diventa anche il consigliere e il sostenitore dei suoi concittadini più indifesi e soli. Autorevole maestro, quando siede in cattedra gli si attribuiscono anche commenti alla Bibbia e a San Tommaso. Ma ciò che spinge la gente di Cracovia a gridarlo santo dopo la morte sono le lezioni di amore che teneva a lungo le strade nelle case, tra malnutriti e ammalati. Nel 1767 Papa Clemente XIII lo iscrive tra i santi. Al ricordo di Giovanni è consacrata una cappella nella chiesa di San Floriano, dove a metà del XX secolo iniziava il suo servizio di vicario parrocchiale il giovane sacerdote Karol Uetila. Katie, una piccola cittadina polacca, ha visto nascere e crescere questo pastore e quest'uomo di santità. Un dettaglio voglio oggi dirvi di lui. Aveva nella sua cella una scritta in latino, ma io ve la dico in italiano. E questo era un motto che lui aveva preso come ispirazione nella sua vita, come un consiglio da tenere sempre presente. Diceva, pensaci bene prima di offendere, non è piacevole dover poi chiedere perdono. Un'altra frase, pensaci bene prima di parlare male di qualcuno, non è sempre possibile poi rimediare. Due massime di saggezza e due norme di comportamento molto molto semplici, che credo siano veramente stati il fondamento di una storia di santità come la sua. Allora le vogliamo fare nostre. Evitare di offendere qualcuno, di trattare male, perché poi in effetti recuperare, andare lì anche a chiedere scusa, può essere difficile, sicuramente non piacevole. E anche parlare male di qualcuno è sempre un'azione che finisce quando noi smettiamo di parlare, ma le conseguenze possono essere veramente molto gravi e addirittura inarrestabili. Allora questi consigli ce li portiamo stretti al cuore, perché sono stati veramente alla base di un cammino di santità, che potrebbe essere anche la nostra se li applicheremo. San Giovanni prega per noi.